Il porto di Fano sta morendo, ma la speranza di un intervento che possa allentare la morsa dell'insabbiamento della Darsena c'è ancora. È un'emergenza alla quale il sindaco Massimo Seri sta lavorando da mesi assieme alle istituzioni, agli operatori e ai rappresentanti di associazioni. Ed oggi ha deciso di lanciare un ulteriore appello alla regione perché approvi il prima possibile il trasferimento delle risorse necessarie al dragaggio del porto di Fano, uno dei più bisognosi delle marche insieme a quello di Porto San Giorgio. La cifra per entrambi dovrebbe aggirarsi sui 5-6 milioni di euro. È fondamentale il dragaggio, lo abbiamo visto nell'incontro che ho avuto la domenica scorsa con gli operatori, ma gli incontri che abbiamo avuto in regione, le richieste che arrivano per noi è strategico per le attività. Proprio ieri c'è stato un vario importante di una barca, di un yacht, quindi se non c'è la fruibilità rischiamo di compromettere tutte le attività che riguardano la pesca, la canteristica e il porto turistico. Poi il primo cittadino durante la conferenza stampa con i giornalisti è intervenuto sul casello di Fenile. Dopo il no del Ministero dei beni culturali e di quello dell'ambiente, l'amministrazione comunale tenta una nuova strategia, unificando il progetto con il casellino di Santa Veneranda di Pesaro. Pensiamo che questa sia la strada migliore, anche la regione ha ritenuto la ritenuta importante come strategia e chiaramente dobbiamo verificare la fattibilità perché le opere compensative di Pesaro e quelle di Fano hanno avuto un iter separato. Fra l'altro auspichiamo che in tempi brevi possa arrivare anche la convenzione per le altre opere, per i 55 milioni che devono essere realizzate a Fano. Sempre nella giornata di ieri il sindaco si è recato a Roma con l'obiettivo di cercare di accelerare i tempi per terminare i lavori degli interquartieri. Un altro lavoro che cerco di fare è quello di anticipare e di capire quelle che possono essere le opportunità perché rimanendo sempre qua, certi aspetti che avvengono a Roma e opportunità che ci sono anche per gli enti locali sfuggono. Io dico che bisogna essere anche un po' audaci perché uno dei temi che a me sta a cuore è proprio questo, liberare risorse del patto di stabilità per poter terminare e fare delle opere importanti, a cominciare quella degli interquartieri che ha ripreso i lavori ma sappiamo benissimo che se non riusciamo a liberare risorse significative non potremmo accorciare i tempi.